La prima dimostrazione avremo un figurante che viene chiamato perché è in una zona non permessa, cercato e il cane parte. C'è l'ordine dell'operatore, il cane lascia. Mentre l'operatore cerca il figurante, il figurante si lascia cercare, si lascia toccare, il cane controlla soltanto. Adesso il figurante non si lascerà cercare. La prima dimostrazione avremo un figurante. Il figurante viene portato sotto controllo dell'operatore e di Riker. Adesso il cane dovrà rimanere fermo durante la forza, quindi partire e poi fermarsi sotto comando dell'operatore. Il figurante non vuole parlare con l'operatore. Sì! 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 In sicurezza, troppo l'operatore non è fatto. Il fatto comando dell'operatore non è lasciato. In sicurezza, troppo l'operatore non è lasciato. E scapperà. Vediamo cosa falle in questa situazione. In sicurezza, troppo l'operatore non è lasciato. In sicurezza, troppo l'operatore non è lasciato. In sicurezza, troppo l'operatore non è lasciato.